Alluvione in atto a Manfredonia, guardate, guardate, pioggia torrenziale, grandine, non uscite, non circolate, alluvione in atto a Manfredonia, pioggia grandine, noi abbiamo preso, siamo fermati all'interno del lavaggio, è impossibile circolare, guardate, guardate, osservate l'acqua, guardate, qui stiamo nella zona alta di Manfredonia, è impossibile, immaginiamo giù, è impossibile, guardate, alluvione a Manfredonia, guardate, guardate. Qui stiamo al parco giochi di Manfredonia, al castello Svevo, vedete, vedete cosa sta succedendo a Manfredonia, guardate, 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 l'acqua ha superato i marciapiedi, è Sipondo, non si può circolare. Stiamo a Sipondo, a lungomare del sole, angolo via del Canneto, guardate che situazione, guardate che situazione, è una cosa grave, ecco, stiamo con l'auto di servizio, svolgendo servizio di protezione civile, a tutela, guardate, ecco, l'auto va indietro, gira perché purtroppo è almeno un 25, 30 centimetri di acqua piovana, è impossibile, è impossibile, guardate, 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 Sipondo e tutti gli amministratori in tanti anni non sono stati capaci di fare le griglie e la raccolta delle acque piovane.